ok finalmente ci siamo tutte veramente veramente cosa vorrei farti notare che manca soffì è sempre in ritardo ricordo che il suo sesto compleanno è arrivato che vi hanno in arriva 7 la torta di nato si è rovinata torniamo a noi come vuoi procedere ragazzi facciamo presto che rovina gli occhi stai troppo al pc il scoccio se mentre ci attiamo gli puoi fare una merendina spieghiamo vuoi tornare da mamma le manco già ho fame questa quarantena sta lavorando ai larvi degli adulti siamo in quarantena perché nessuno me l'ha detto scusa non ti sei insospettita di stare per così tanto tempo a casa no pensavo che i miei ci fossero resi conto dei rischi che ci sono qua a casa avessero deciso di non farmi uscire io pensavo che mamma volesse tenermi con lei tutto il giorno non l'ha mai pensato ma perchè perché tua madre è una donna intelligente si è di famiglia silenzio per evitare intercettazioni è ora di parlare in codice mamma serena è posseduta non chiamare i grandi perché perché ci sta proponendo di fuggire lo so cosa ho detto l'ho detto in codice farfallese farfallese sono troppo vecchi per queste fancavolate e perchè vorresti scappare? perchè i grandi non sanno gestire il problema l'ho detto in codice farfallese 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 l'ho detto in codice farfallese